E' vero che nei vaccini c'è il grafene, i feti abortiti, i bambini morti, le budella di mia nonna, questo e quest'altro? Allora, ragazzi, io lo capisco che ci sia tanta gente disorientata, lo capisco, ok. Però questo non può essere una scusante per non usare il cervello che abbiamo tutti e usarlo veramente per cercare di non essere dei polli in balia del primo cialtrone che arriva. Queste domande qui, anzitutto, non dovete farle a me, dovete fare una domanda molto semplice a chi vi racconta queste cose. E cioè, visto che hai analizzato delle dosi di vaccino, mi spieghi dove le hai prese queste dosi di vaccino? Cioè, lo sappiamo tutti che i vaccini non è che te li tirano dietro, non è che vai in farmacia e lo chiedi e te lo danno. Le dosi sono contate, sono strettamente controllate, ok, quindi se esce una dose da qualche parte rimane una traccia. Quindi, queste persone che dicono di avere analizzato delle dosi di vaccino, dove l'hanno prese? Per farsi questa domanda, lo capite da soli, non c'è bisogno di avere nessuna competenza, basta avere una logica in testa e fare 2 più 2. Nei lavori scientifici, quelli veri, c'è, se li leggete, nei paper scientifici, c'è sempre una sezione che si chiama materiali e metodi, dove c'è scritto dove uno ha preso i reagenti. Cioè, se io faccio un esperimento con del vaccino, può essere anche una cosa normale che si può fare, c'è scritto chi mi ha dato il vaccino? Se me l'ha dato, per esempio, l'azienda, sono andato a chiedere tot dosi di vaccino a un'azienda, o di farmaco, o di reagente a un'azienda, per vederlo, per provarlo, c'è scritto che quella determinata azienda me l'ha dato, perché glielo ho chiesto, ok? Oppure, se io ho comprato dei reagenti da una ditta specializzata, c'è scritto che da dove l'ho comprati, eccetera. Se l'ho preso da un collega, c'è scritto che il collega lo ringrazio perché mi ha dato questi reagenti. Quindi, quando qualcuno ti dice che ha trovato delle cose dentro un vaccino, chiedigli dove ha preso questo cavolo di vaccino. Questa gente, il vaccino, non l'ha preso da nessuna parte, ok? Da dove l'hanno preso, secondo voi, questo vaccino? Nella tua testa non ti sei posto questa semplice domanda? Mi dispiace dirtelo, ma significa che ancora non hai sviluppato quel minimo senso critico che distingue il bambino dall'adulto e sei in balia di qualsiasi truffatore, balla, eccetera, che arriverà nel corso della tua esistenza. Oggi c'è il vaccino, domani ci sarà un investimento, qualsiasi cosa. Ogni volta che qualcuno ti dirà qualcosa, tu sarai sempre come una banderuola a chiederti oddio è vero, oddio non è vero. Lo capisci che ci sono alcune cose che si possono verificare rapidamente, velocemente e senza tirare in ballo grandissime premi Nobel, ok? Quindi, se questa cosa non ti è venuta in mente, scusami, magari ti offendi, però ti devi svegliare. Magari sei bravissimo a fare la polemica, magari pensi di avere un grandissimo senso critico perché ogni volta che leggi qualcosa fai il polemico, fai la polemica, ti metti a scrivere i commenti, eccetera, e non ti fidi di nessuno. Ma quella non è senso critico, quello è il senso polemico. Fare è casino, capisci? Il senso critico è un altro. Fare le domande semplici e giuste alle persone giuste. Quindi, invece di tartassare me ed altri con le domande sul grafene, su che cosa ci mettono dentro, andate da queste persone e chiedetegli, cercate di risolvere questo dubbio. Da dove l'hai preso di vaccino? Seconda cosa, quando si fanno le analisi su un farmaco, le analisi chimiche, biologiche su un farmaco, su un vaccino, eccetera, non è che si fanno con il microscopio. Il primo impulso che dovete avere non è mi attacco alla tastiera e faccio le domande allo scienziato, o all'influencer, o alla persona che c'ho lì davanti. Uno deve cominciare a rispondersi alle domande a cui può arrivare e poi, eventualmente, se ci sono dubbi ulteriori, parlarne con chi magari ha più esperienza. Ma il compito a casa, ragazzi, lo dovete sempre, sempre fare. Poi, ripeto, io non faccio debunking, se qualcuno ha bisogno di una consulenza personalizzata su questioni scientifiche, è il mio mestiere, faccio il biologo, sono consulente, quindi trovate sul mio sito l'email, pagate una cifra ragionevole per il mio tempo e io sono alla vostra disposizione. Non sono qui per fare il debunker gratis su internet, mentre altri cialtroni e furboni fanno i soldi e si fanno conoscere raccontandovi cavolate come quelle di andare a vedere col microscopio che cosa c'è, scusate, ma che cosa c'è in un vaccino? Cervello sempre acceso dentro la scatola cranica, per favore, dai ragazzi.